Continua la violenza in Sud Sudan. Negli ultimi tempi gli scontri si sono spostati nei tre stati petroliferi del paese, uniti Alto Nilo e Yonglei. A farne le spese, come sempre nei conflitti, il popolo, le persone, la gente, che subisce saccheggi di istruzione e violenza, così come è successo negli ultimi giorni a Malakal, capoluogo dello stato petrolifero dell'Alto Nilo, al centro degli scontri tra i militari governativi e di ribelli fedeli all'ex vice presidente Riek Makar. L'Occidente fatica a capire questa situazione complessa, a raccontarcelo padre Daniele Moschetti, provinciale dei missionari komboniani in Sud Sudan. Questo è un conflitto che viene da lontano, quindi sono diciamo decenniche, questo conflitto che è anche il punto tribale, quindi di Inca e Nuer sono sempre stati due etnie cugine, ma allo stesso tempo anche in conflitto, sia per le mandrie, perché sono due etnie pastoralisti, quindi dediti alle vacche, no? E questo per loro è il loro mondo. E poi è logico che c'è un aspetto anche più, in questo momento più politico, dal momento in cui sono diventati indipendenti, nel 2011, il presidente che è d'Inca, quindi Salva Kir, e il vice presidente che è Riek Makar, che è un Nuer, questa dimensione appunto anche di conflitto è diventata anche politica, non soltanto etnica. Sotto c'è un altro interesse, l'interesse economico, il petrolio. Sì, certamente, è diventato poi sempre di più delle risorse, quindi appunto il discorso del petrolio, quindi queste risorse sono importantissime per lo Stato e per il futuro di questo Stato. Perdendo questi tre Stati, logicamente, anche la Repubblica caderebbe, perché mancherebbe le risorse per mandarle avanti. Aumenta continuamente il numero dei profughi, dei rifugiati? Sì, sì, siamo oltre gli 800.000 che hanno perso tutto praticamente, quindi sono scappati da questi Stati, oppure sono nelle paludi, oppure sono andati negli altri Stati vicini, oppure in Stati, in azioni vicine, quindi nel Kenya, nell'Uganda, in Etiopia, in Sudan, quasi anche gli altri 200.000 persone. Quindi si parla più di un milione di persone che hanno lasciato queste zone, proprio per conflitti, proprio per questo conflitto. Siamo nel periodo della stagione secca, in questo momento, dove è ancora molto caldo, ma molto presto, fra un paio di mesi, comincerà la stagione delle piogge e quindi questo vuol dire ancora più fame, ancora più morti, perché malattie, tutto quello che comporta. Noi dicevamo all'inizio non possiamo tanto comprendere tutta la situazione dal punto di vista politico, diplomatico, eccetera, però capiamo la necessità umanitaria. Lei, dalla sua esperienza, come vede il futuro? Almeno le ultime notizie, dal tentativo di accordi di pace che stanno andando avanti ad Isabeba, è un governo ad interim, cioè un governo che possa coinvolgere queste due fazioni e si possa suddividere anche quello che è il potere. Indubbente non è la soluzione massima, però in questo momento è di transizione per arrivare poi a ricostruire quello che è la fiducia, perché qui manca completamente la fiducia reciproca e quindi le chiese, in questo caso, la chiesa cattolica, i missionari, tutte le chiese presenti in Sudan, devono giocare un ruolo molto molto importante, perché la riconciliazione è diventata la priorità assoluta di quello che è il nostro lavoro pastorale.